Sì cavolo, sì! Mamma mia Mamma mia, non potete capire la quantità di parole che ho pronunciato in sta partita Una sofferenza in un uomo Una sofferenza fino alla fine O non potete capire quanto si è arrabbiato Quanto ero stato arrabbiato Perché oggi questa vittoria è una delle più importanti dell'anno Onestamente dopo l'1-0 non pensavo di vincerla Io all'inizio della partita, troviamo sto computer Perché Dazon mi ha dato una quantità di problemi Vabbè, mi ha dato una quantità di problemi Dazon però lasciamo stare Però veramente prima della partita ho buona sensazione in realtà Con un po' di sofferenza, magari anche superendo gol Ma pensavo di vincerla E infatti è accaduto questo Poi però dopo l'1-0 di maggiore Ho detto qua se pareggiamo va bene lo stesso Cioè va bene un corno Però va bene, intendo che sarebbe già tanto per come si era messa la partita Io direi raga, vittoria meritata Non che la Juve abbia fatto una bella partita Perché diverse cose non mi sono piaciute Innanzitutto io mi godo sta vittoria Che cacchio! Io sono convinto che se l'Inter avesse pareggiato ieri Questa non avremmo mai, mai vinta E questo è un segnale È un segnale per lo Scudetto Perché ci siamo, cacchio! Non come molti che dicono che ormai lo Scudetto è andato Noi ci siamo Noi ci siamo sì Noi ci siamo Perché queste reazioni Monza Verona Un'altra che mi viene in mente Salerno Reagire giovedì in quella maniera Oppure penso La vittoria con la Roma La vittoria con il Frosinone Raga, questa è una squadra con gli attributi Questa è una squadra Con gli attributi Mettetevelo nel cervello Perché l'anno scorso tutto questo non l'avevamo La Juve vince con 1-2 Gol Berl La Salernitana di Maggiore Un tiro dalla distanza Segna Ilin Junior entrato E poi un colpiteste di Vloach Al 91 Che sofferenza ripeto Averla vinta è stato veramente bellissimo Perché la Juve nel primo tempo Fa una prestazione discreta Fa una prestazione secondo me Anche buona Nel bene o nel male Perché Alla fine la Juve Gestisce molto la palla La Salernitana Veramente nel primo tempo Non si è giocato Nel primo tempo Nianco un minuto di recupero E E tutti La Salernitana era a terra Non si è giocato niente Nel primo tempo Era straincavolato Perché quel tiro di Maggiore È entrato Dopo Un Dopo un errore Della nina difensiva Di Kostic Che oggi è stato il peggiore in campo Ma di basse Complimenti alla Salernitana Innanzitutto Perché aveva fatto una partita Che sicuramente Si ricorderanno Per bene Perché ha difeso veramente bene La Salernitana A parte gli ultimi minuti Ha fatto una partita Nella quale meritava di perdere Ma Ha dato tutto Quindi complimenti ai ragazzi Di Inzaghi E Però Regà Ha merito anche ad Allegri Voto molto positivo Cioè molto positivo No ma Voto positivo Perché oggi L'ha vinta Allegri Secondo me Con la calma Con dentro Creding Junior La vinta Allegri Ma anche i calciatori Perché la Salernitana Nel primo tempo Sostanzialmente Mi ricordo Un tiro di maggiore Finito Il rete Ma poi la Juve È quella A far possesso Palla Gioca sulla fascia destra Produce Tanto sulla fascia destra Non proprio Un meccanista ordinario Neanche un Vea straordinario Se devo essere onesto Vea poi sostituito E Con dentro Nonghe Nonghe Negli ultimi Di gara Un cambio Che non ho capito Ma Va bene così Guardate Va bene così Tanto chi vince Ha ragione Chi se ne frega Nel primo tempo La Juve produce La Juve va vicinissima Al gol del vantaggio Con Danilo Palla fuori Di poco C'era l'illusione ottica Del gol Penso anche Al Penso anche A tante altre occasioni Che ci sono state Poi chiaro La Juve La Juve Poteva fare un gol Nel primo tempo Non di più Perché comunque Ha creato sì Ha tenuto tanto palla sì Però anche la Salernitana Si difesa molto bene Si difesa veramente Molto bene Anche l'anticipo Di Fazio Poderoso Su Bremer La Juve partia molto bene I primi dieci minuti Poi secondo me Con l'imposta del tempo Considerando anche Il campo di gioco La Juve ha fatto Molta fatica Le due o tre iniziative Di Ildis Possibile calcio di gore Non dato Ildis bene All'inizio Poi è calato Un po' Nel secondo tempo Giusto sostituirlo Milik non mi è piaciuto Quando è entrato Ve lo dico Non mi è piaciuto Tanti tiri fuori La Juve però Nel secondo tempo Un paio di minuti dopo L'entrata di Hilling L'entrata di Lugani Insomma Le Sostituzioni hanno fatto Tantissima differenza Mettere Gatti fuori Che non stava giocando Benissimo E mettere Lugani Che invece ha giocato Meglio E' stato importante Ma soprattutto Togliere Kostic Che ha sbagliato Sul gol della Sarnitana E Hilling Che fa l'uno a uno Tanti tiri Hilling è stato uno Dei più vivi Uno dei migliori in campo Se non il migliore Ma Ha segnato Dopo Vlaovic Che cicca la palla Hilling Veramente La mette al set Voi mi volete morto Non potete capire quanto Perché ci sono delle parti In cui sto veramente tranquillo Cioè nel senso ansia Ma non dico niente Delle parti invece in cui Insulto tutta la famiglia Ovviamente si fa per dire Però Delle parti in cui Veramente Impazzisco troppo Perché vedo delle robe Che non mi piacciono La Juve ne aveva oggi A differenza di Genova Nella quale La Juve non aveva benzina Oggi ce l'ha avuta Perché la Juve Stava facendo I buoni passaggi La Juve circolava Tanto la palla La Juve Oggi doveva vincere Questa partita Punto e basta Abbiamo abbattuto Il muro della Sarnitana E E poi nel secondo tempo Dopo il gol di Hilling Paradossalmente Non mi è piaciuta la Juve Meglio la Sarnitana Che Sfiora un gol Con Braddic Gran parata Iscesni Gran riflesso Risultato per me giusto Alla fine della fera E Andrei Con una palla eccezionale Per Simi Che non riesce A segnare E Però c'è quello stacco Poderioso di Vlovic Cross di Danilo Dalla destra Vlovic di testa Che si toglie la maglia Che bello Quanto sta migliorando Dujan Vlovic Quanto sta migliorando Vlovic In modo Bellissimo In modo bellissimo Vinciamo questa partita Con Danilo Che anticipo Gioca della Sarnitana E quell'anticipo È stato fondamentale Motivo per cui Danilo Dopo un inizio difficile Nel primo tempo Nel secondo me Decisamente cambiato marcia Che goduria Cavolo Che goduria Anche Miletti Quando è entrato Un po' me Un po' così Non un gran Meccani Che è andato A un passo Dall'1-1 Con un colpo di testa Finito fuori di tanto Cioè in realtà di tanto No Ha impattato male il pallone Nicolussi Caviglia Mi aspettavo un po' di più E I tre di difesa Non impeccabili Per più tempo Kostic Lasciamo stare Ma Non per questo Noi si deve comunque Darci fiducia Perché comunque Oggi si ha giocato male Però Svolge anche compiti Diversi Senz'altro Aveva un po' di giocatori In panchina Chiesa era fuori Locatelli è squalificato Cambiato Autoramente La Juve Ne aveva fuori tanti Oggi Ne aveva fuori tanti Non pensava di soffrire Così tanto oggi Pensava di soffrire Di più in Coppa Italia E meno oggi Invece è stato paradossalmente L'inverso Troppa sofferenza Ma è una vittoria importante Poi perché Il rosso di maggiore Ha influito Perché comunque La Salernitana Poi A centrocampo ha perso qualcosa Una falcata di rabbiò Che ha causato il rosso Maggiore più che giusto Pioveva Un gambo di gioco Non in condizioni perfette Ma la Juve l'ha vinta La Juve l'ha vinta Spesso McKennie E Weha Soprattutto Nel primo tempo Si scambiava le posizioni Invece Kostic In fase difensiva È l'ennesima prova Che non può Giocare Basso Kostic deve giocare Alto Per questo Kostic con Chiesa Fa fatica Kostic senza Chiesa Fa meno fatica Ma oggi Kostic con Illiz Ha fatto fatica Lo stesso E nulla Questa è la postpartita Juve-Salernitana Ora siamo A meno Due dall'Inter Sì Sì La prossima sarà Con il Frosione in Coppa Poi avremo Il suo suolo Questa vittoria Fondamentale Era letteralmente Fondamentale Complimenti a tutti Nonostante non sia stata Una gran gara Ci sono diverse cose Di cui non sono soddisfatto La sofferenza finale Troppi palloni Buttati All'area Troppi palloni Buttati veramente Nel Savete voi Troppi palloni Buttati veramente Nel cesso Ecco Scusate però Dovevo dirlo Dopo il gol di Ing La Juve non mi è piaciuta Poi Danilo Cross E Brovic colpisce Uff